Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno consulenza sovraindebitamento. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per mettere a disposizione di professionisti e imprese non fallibili le proprie competenze attraverso la specializzazione nell'affrontare i problemi di sovraindebitamento per aver ottenuto la pressoché totalità di sentenze positive e per la presenza capillare in tutta Italia. Il premio va a rianalisi bancaria tributaria. E io ho il piacere di avere qui come in studio, naturalmente la invito a raggiungermi, Cristina Cavina, amministratore unico. Eccola, prego. Benvenuta, io voglio consegnarle subito questo premio. Grazie mille, grazie mille a tutti, buonasera. Allora, lo appoggiamo, può accomodarsi perché subito io voglio sapere che cosa significa questo premio per lei, per voi come team e quindi un commento a caldo. Prima di tutto vi ringrazio, vi ringrazio per il premio e per l'opportunità. Prima di tutto i ringraziamenti vanno ovviamente ai collaboratori, perché se non ci fossero i collaboratori non si potrebbero ottenere questi riconoscimenti. Quindi un grazie vivo a tutti i collaboratori, i professionisti che collaborano con rianalisi. In secondo luogo, grazie a voi, perché riusciamo a ritagliare uno spazio alla legge 3, la legge sul sovrindebitamento, che è una legge che ad oggi è ancora veramente troppo poco conosciuta per l'opportunità che dà le persone. Anche attraverso questo premio effettivamente c'è la possibilità di parlarne, no? Credo che... Qual è l'importanza, quindi relativamente a quello che fate voi, di un premio di questo tipo, proprio per la maggiore conoscenza rispetto a quello di cui vi occupate? E poi va bene, mi collegherei anche al fatto che è stato messo in evidenza che c'è questa pressoché totalità di sentenze positive. Quindi unirei le due questioni. La legge 3 è una legge molto importante, perché come dicevo prima viene chiamata dai più la legge contro i suicidi, legge anti-suicidi. Perché questo? Perché dà una possibilità per la prima volta a tutti quei soggetti che non sono fallibili di trovare una soluzione ai propri debiti. E per soggetti non fallibili rientrano tutti, perché rientrano le piccole imprese, i piccoli professionisti, i piccoli artigiani, le aziende agricole e rientrano anche le persone di tutti i giorni, quelle che non hanno una partita IVA e che si sono sovrindebitate magari per comprare casa e poi hanno perso il lavoro. Quindi è una legge destinata veramente a una platea molto ampia ed è molto poco conosciuta per il rilievo che può andare, le possibilità che può offrire. Per tornare sulla motivazione, diciamo che noi abbiamo incominciato a studiare la legge 3 nel 2015. Ci siamo accorti delle opportunità che poteva dare alle persone e ci siamo posti la domanda più banale, perché questa non è conosciuta, non è applicata. Sto chiedendo io in realtà, come mai? Però ecco, arriviamoci. Noi siamo andati nei tribunali, proprio dentro i tribunali per capire se venivano depositate queste pratiche e perché non c'era rilevanza e non si sentiva parlare. E ci siamo accorti sostanzialmente che il problema era nel come veniva depositata la pratica. Non c'erano dei soggetti che offrivano la consulenza per depositare in maniera corretta con tutti i documenti necessari e le analisi opportune la pratica. Per cui quello che facciamo noi è, attraverso i nostri collaboratori e le nostre affiliazioni su tutto il territorio, andare a confezionare, diciamo così, una pratica come deve essere... Era un problema di forma fondamentalmente. Era un problema di forma e anche di sostanza per le analisi che devono essere fatte all'interno della pratica perché questa sia appunto laborabile all'interno dei tribunali. Quindi che ci fossero le informazioni corrette, tutta la documentazione necessaria e quindi... E' un problema di procedura in generale, è ancora più ampio come problema. Quindi quando noi appunto leggiamo nella motivazione, la specializzazione nell'affrontare i problemi di sovraindebitamento è qualcosa di quasi esclusivo con la premessa che lei ha fatto. Siamo in pochi, siamo veramente in pochi. Adesso la legge 3 subirà una forte riforma che entrerà in vigore con il settembre del 2021 e la riforma cerca di andare un attimo a semplificare quello che è l'ITERA. E la cosa importante secondo me è che se ne parli perché appunto quando, come ieri, che ci è capitato di comunicare a un cliente proprio qua su Milano, che la procedura era stata aperta e sostanzialmente da quel momento in poi non avrebbe subito atti di pignoramento, non avrebbe più ricevuto raccomandate. Vedere la soddisfazione delle persone è finalmente la liberazione che ha alcuni problemi, un sospiro di sollievo è una grande soddisfazione. Insomma in questo momento peraltro è sempre un benvenuto il sospiro di sollievo, no? Quando è ulteriore. Come andare avanti quindi per l'immediato futuro? Noi continuiamo a lavorare con la speranza appunto di far dare tanti altri sospiri di sollievo alle persone. Quello è il nostro obiettivo principale. Questo mi piace insomma. Allora intanto io le riconsegno questo premio e la invito a restare comunque seduta con me fino ai saluti finali e alla nostra sigla finale. Complimenti ancora a tutto il team, visto che l'abbiamo ringraziato subito, e a Cristina Cavina, amministratore unico di rianalisi bancaria e tributaria per questo premio. Eccellenza dell'anno, consulenza, sovraindebitamento e appositamente ho ripetuto questa parola perché bisogna parlarne di più. Grazie mille. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi. Grazie a voi.